Quando cerchi una ricetta solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto, due cuore e una cappa è il posto giusto Oggi faremo insieme una crema spalmabile al cioccolato furba Infatti ci avvarremo di una base già pronta, 100% naturale Questa è crema di arachidi, 100% arachidi, la prendo alla Lidl Come vedete tra gli ingredienti troverete solo arachidi Ma potete usare anche il burro di mandorle oppure il burro di nocciole E in quel caso vi viene una Nutella perfetta E allora useremo 350 grammi di crema di arachidi 100% E 100-150 grammi di cioccolato fondente Potete fare questa crema con qualunque tipo di cioccolato fondente Quindi dal più amaro al meno amaro Io sto usando un 80% Però già dal 75% fino al 95% Le ho provate tutte e la crema viene buonissima in tutti i modi E allora facile facile iniziamo Io comincio prima con 100 grammi Poi assaggio la crema Se mi piace lascio 100 grammi di cioccolato Se no aggiungo gli ultimi 50 grammi In un pentolino metto il mio cioccolato E lo faccio sciogliere Io ho un fornello a induzione Quindi mi basterà mettere a 2-3 E lui si fonderà in pochissimo tempo Nel frattempo apro la mia confezione di burro d'arachidi Se volete poi un giorno lo facciamo assieme col burro di nocciola Mi viene solamente un po' più difficile reperirlo Perché devo andare al bio Mentre questa la trovo facile facile alla Lidl Dal momento in cui inizia a fondare Muovete sempre il cioccolato Potete farlo anche al microonde Io non ho il microonde Quindi Mi arrangio Quando tutto il cioccolato sarà bello e fuso Abbasso a 1 Quindi proprio una fiamma super 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 bassa E unisco il mio burro di frutta secca Questo è un po' crunchy Potete scegliere voi la consistenza che preferite E così avete una crema spalmabile 100% vegetale Senza latte Con gli zuccheri che decidete voi in base al cioccolato che avete scelto Quindi regolabile a misura di esigenze personali Ok siamo al momento dell'assaggio Vediamo se ci piace già così O se la vogliamo ancora un po' più cioccolatosa Assaggia l'esperto Un po' più cioccolatosa? E allora ragazzi 150 grammi di cioccolato fondente Ok a questo punto La nostra crema spalmabile è super pronta Versiamola in un contenitore pulito In quanti vorrebbero essere al posto del vasetto? E allora 350 grammi di crema spalmabile E 150 grammi di cioccolato fondente Per i nostri gusti Potete arrivare anche a 200 grammi di cioccolato Questo dipende da quanto la volete cioccolatosa Già così è a un buon livello di golosità Pronta per colazioni stupende Adesso lei si raffredderà Io la faccio raffreddare da stappata Appena sarà raggiunta a temperatura ambiente La chiudo e la tengo fuori dal frigo Perché tanto sia il cioccolato Che il burro di arachidi Che ho usato Che ho usato Possono rimanere fuori dal frigo Eccoci Buona colazione Buono spuntino Buon break a tutti Con questa crema spalmabile 100% vegetale E buonissima Quando cerchi una ricetta Solo una formula è perfetta Se vuoi vivere con gusto Due cuori e una k È il posto giusto